Ivory è una delle prime varietà registrate da Ires, è stata iscritta nel 2021 e molti agricoltori lo stanno già coltivando con grande soddisfazione soprattutto per il ciclo e per la capacità produttiva. Infatti ha un ciclo medio precoce, si può seminare fino al 20 di maggio, ha una taglia bassa che lo rende inallettabile e una elevata resistenza al brusone. È già classificato nel gruppo RIBE.